Il nome Atupri lo si conosce solo da poco tempo, ma ciò che non tutti sanno è che Atupri c'è da oltre 100 anni. È stata creata nel 1910 dalle FFS. Quando nel 1996 è stata introdotta la legge federale sull'assicurazione malattia, la vecchia cassa malati si è aperta ai clienti privati e aziendali. L'obiettivo aziendale più importante di Atupri è qualità, calità Atupri. Da tale motto nel 2002 è poi nato il nome Atupri. Atupri cresce costantemente di anno in anno e dalla sua apertura sul mercato ha triplicato i clienti privati. Grazie ai suoi premi economici? Forse, ma ci sono tre altri talenti di Atupri che costituiscono il segreto di questo successo. Il primo, la qualità del servizio. Atupri ama la rapidità ed elabora le richieste e i vari casi in modo veloce e sicuro. Gli assicurati di Atupri non devono mai attendere a lungo. Il secondo talento è la forza innovativa. Con MiVita e con gli altri nuovi modelli assicurativi, Atupri è al passo con i tempi. Il terzo talento. Atupri approfitta in oltre… Oh, un attimo. Scusate. Terzo. Atupri approfitta di oltre 100 anni di esperienza nelle assicurazioni singole e collettive. Oggi, oltre 900 piccole e grandi imprese svizzere sfruttano la competenza della tradizionale, ma anche giovane e dinamica, Atupri. Atupri investe anche nella salute dei suoi assicurati ed organizza per tutti una vasta quantità di sane attività per il tempo libero. Atupri sa che la vera qualità inizia là dove le aspettative vengono superate. Grazie a tutti.